Stiamo scendendo in linea di produzione, dove da l'inizio alla produzione della Superleggera ed è un po' il compimento del progetto Panigale. Mettere in produzione una moto come la Superleggera è anche una grande responsabilità per tutti noi, perché ha dei contenuti da moto stradale ma con una tecnologia che è da pista, da competizione. Ogni componente è tracciato e sappiamo esattamente in che moto viene montato e quindi noi nel futuro della moto siamo in grado di individuare tutta la sua storia e tutto quel che è avvenuto nel suo percorso di assemblaggio. È un po' la rappresentazione dell'idea della Ducati stessa, quindi questa voglia di spingere i limiti e i contorni di quello che è realizzabile è sempre un po' più in là. Arrivare poi con questi progetti alla produzione di serie e arrivare a metterli veramente in movimento è la soddisfazione più grande, quindi oggi è veramente un bel giorno.